trattala come tale non abusarne ciao benvenuto benvenuta questa è la lucerna di cronos e questa è la rubrica espresso più tarocchi come sai il martedì dedicata ad un piccolo interattivo ovviamente però prima sigla martedì 28 febbraio 2023 come sai il martedì è il giorno del nostro piccolo interattivo solo che oggi è un martedì particolare l'espresso si conclude oggi un esperimento che nelle mie intenzioni doveva durare un mese ma che in realtà è durato ben sei mesi ritagliandosi anche una larga fetta di affezionados e vi ringrazio veramente tanto per come questa iniziativa è stata accolta iniziativa che mi ha permesso di sperimentare anche tanto e anche poi di migliorare nel tempo quelli che saranno gli interattivi vediamo un po visto che è l'ultimo giorno e molte persone mi hanno chiesto ma tornerà bello andiamo a chiedere ai tarocchi pensa ad una persona puoi scegliere una variante o tutte e due le varianti andiamo a vedere tutte e due ovviamente per due persone diverse se questa persona si riaffaccerà nella tua vita di aspro fasciato per la prima corniola per la seconda ti do qualche secondo di aspro fasciato per la prima corniola per la seconda puoi scegliere anche tutte e due le varianti pensa ad una persona vediamo se tornerà nella tua vita partiamo col di aspro fasciato il sette di bastoni il quattro di bastoni il quattro di spade allora purtroppo qui la risposta non è positiva il quattro di spade è una carta di rilascio una carta di cura una carta di una persona che probabilmente se ne è andato o se ne è andata in modo anche conflittuale e che però ora sembra aver trasceso anche questo conflitto pur tuttavia potrebbe essere già in una relazione e sembra che qui con questo quattro di spade le speranze siano poche è vero che quattro di spade una carta di cura è una carta di convalescenza una carta di ritorno ad una condizione pre malattia quindi si suppone anche pre litigio però anche una carta di definitivo rilascio di una condizione precedente qui purtroppo mi spiace ma credo che il ritorno non ci sarà o almeno per ora poi tre carte alla fine possono coprire un periodo di sei otto mesi forse un po meno forse più sei mesi ecco diciamo che nell'arco di sei mesi il ritorno non lo vedo sicuramente la persona non ti porta più il rancore semmai te l'ha portato oppure sei tu che non lo porti più a lui o a lei e comunque qui probabilmente c'erano anche cose che andavano curate all'interno della persona con un set di bastoni iniziale e un quattro di spade finale probabilmente la persona aveva magari sofferto relazioni precedenti errore non si dovrebbe mai fare e lo ha riversato poi anche nella vostra relazione oppure magari può essere una persona che ha fatto una scelta preferendo aprirsi ad altre esperienze più magari anche per comodità diciamo nel caso di relazioni dove c'è distanza mentale o fisica insomma qua purtroppo gira come come ti rigira qui grande ritorno non lo vedo o perlomeno non lo vedo in tempi brevi ecco poi non è detto che nel tempo non possa cambiare la situazione però ecco in una stesa di tre carte che mi può tirare avanti per sei mesi grandi ritorni non ne vedo qua andiamo a vedere la variante della corniola otto di denari otto di spade re di spade allora qui è strano qui la persona vorrebbe tornare però non ha il coraggio perché l'otto di denari è una carta di continuità quindi probabilmente anche qui si parla di una persona che al momento ha la sua vita la sua dimensione non escludo anche di coppia però come se si sentisse ingabbiato ingabbiata e la connessione va inevitabilmente magari a quello che era il tipo di rapporto che aveva con te che stai guardando però anche qui secondo me c'è un po allora il re di spade è una carta che porta al massimo di espressione le qualità delle spade quindi il pensiero quindi anche il parlare anche quindi un qualcuno che forse non riesce ancora a staccarsi da quello che c'è stato fra voi probabilmente qui tornerà indietro però io credo che ancora debba lavorare molto sul coraggio di tornare indietro qua vale la pena di buttarci giù un'altra carta perché qui ci sono buone speranze se ovviamente credi al ritorno perché poi l'otto di spade è una carta di connessione al di là della distanza temporale fisica o mentale però il re di spade arriva un pochino a rompere le uova nel paniere vediamo un pochino cosa vuole aggiungere qua il 5 di bella tosta questa persona bella tosta bella tosta però anche il 5 di bastoni è una carta fondamentalmente di imposizione in un certo senso qui c'è qualcuno che preferisce fustigarsi ma non ti dà la soddisfazione di tornare indietro se probabilmente tornerà perché comunque alla fine un re di spade anche chi sceglie liberamente di prendere il proprio destino in mano tu mi potresti dire ma allora qui potrebbe aver scelto di aprirsi ad altre opportunità sì certo ok però un re di spade ricordati introdotto da un otto di spade quindi una sensazione di gabbia quindi qui c'è un qualcuno che probabilmente tornerà indietro però non ha ancora il coraggio gli manca quella molla finale che scatta sì mi viene da dirti questo perché anche un 5 di bastoni una carta di forte volontà ed è la carta di chi alla fine persevera nelle cose cioè ti ripeto qui mi faccio fustigare però la soddisfazione di dirti stavo meglio con te non te la do credo che questa persona sia ancora dichiaratamente o perlomeno a livello superficiale magari si scava nel profondo no però dichiaratamente a livello superficiale sia ancora una persona che sguazza nelle nelle diciamo nelle dinamiche egoiche che poi portano a a creare situazioni conflittuali sì 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 qua è così qua ci sono ottime speranze ma sto capoccione o sta capocciona devono capire che non si può avere sempre ragione martedì 28 febbraio il giorno dell'ardente entusiasmo i nati il 28 febbraio sono contraddistinti da uno straordinario entusiasmo per la vita che trasmettono tutte le persone che incontrano individui positivi e pieni di energia sanno ravvivare molte situazioni con il loro vigore ma a volte hanno anche la tendenza a prendere una direzione completamente sbagliata andando avanti a tutta velocità e difficilmente se ne rendono conto travolti come sono dal loro stesso entusiasmo queste persone sanno essere al tempo stesso sicure e positive dinamiche efficienti oppure distruttive a seconda delle circostanze sarebbe bene naturalmente che qualche volta si sedessero un momento a considerare la strada che hanno imboccato cercando di capire meglio se stessi e sforzandosi di essere più decisi a concentrarsi sui propri obiettivi poiché le loro energie risultano frequentemente frazionate o disperse tra le varie occupazioni e dal momento che essi si lasciano trasportare con tanta facilità in imprese completamente nuove a volte assumono un atteggiamento troppo poco realistico nei confronti del mondo e questo per le persone care è motivo di grande apprezzione in effetti una parte del problema sta proprio nel fatto che a volte i nati in questo giorno si compiacciono di vedere gli altri preoccupati per loro e possano addirittura arrivare a buttarsi in imprese pericolose dall'esito incerto soltanto per ottenere tale attenzione quello che li fa sentire vivi è l'eccitazione pura che proviene dagli eventi la sensazione che avvertono in se stessi e negli altri sarebbe opportuno tuttavia che riuscissero a selezionare le attività in cui impegnarsi cercando di accettare unicamente quelle sfide che non soltanto sono rischiose ma anche utili e gratificanti sia a breve termine sia in prospettiva per tutta la vita poiché scelgono di vivere in maniera così frenatica irriducibile nati in questo giorno sono destinati a provare molte più esperienze della media delle altre persone e davvero molti di essi non potrebbero agire in nessun altro modo l'altro canto però un entusiasmo così disinibito rischia di condurre alla disattenzione e all'avventatezza il che ostacola la possibilità di un effettivo sviluppo inoltre può accadere che con l'arrivo della maturità comincino a vedere che gli effetti negativi di ciò che fanno sta decisamente superando il divertimento e l'entusiasmo i nati in questo giorno devono quindi instillare nel loro grande ardore per la vita anche un pizzico di discernimento tutti gli incontri positivi o negativi devono servire a sviluppare una filosofia personale e ad approfondire la conoscenza spirituale della vita il problema è a quale punto l'esperienza finirà per tradursi in saggezza per alcuni ciò si verifica solo in età avanzata per altri non avviene mai tutti però ad un certo punto della loro vita devono sentire il dovere di mettersi a una certa distanza dallo spettacolo della vita e osservare se stessi e gli altri vivere i nati il ventottesimo giorno del mese sono governati dal numero 1 2 più 8 10 1 più 0 1 e dal sole chi è dominato dal numero 1 ama solitamente primeggiare in quello che fa ha idee chiare estremamente individualista e ansioso di raggiungere la vetta il sole simboleggia il fuoco e una forte energia creativa che dovrebbe fluire regolarmente e non essere lasciata divampare a sprazzi al di fuori di ogni controllo la combinazione tra il sole e nettuno il pianeta che governa i pesci rende a volte nati il 28 febbraio esageratamente romantici e sempre la ricerca dell'affetto la carta associata ai nativi di oggi è il bagatello i pregi sono stimolante vivo ricco di personalità i difetti esaltato eccessivo avventato il consiglio del libro personology è coltivate il vostro lato contemplativo e affrontate le questioni importanti della vita non lasciatevi trascinare troppo dall'entusiasmo e dalla voglia di suscitare stupore tutto ciò che vi fa sentire vivi deve anche adattarsi bene a passare degli anni il pensiero del giorno è l'oggetto dell'entusiasmo è importante almeno quanto l'entusiasmo in sé bene con questo si conclude la nostra avventura dedicata all'espresso un'avventura che appunto sarebbe dovuta durare soltanto un mese ma che mi sono anche divertito a portare avanti che mi ha fatto avere anche più interazione con l'utenza che mi ha portato anche a mettermi in gioco a crescere e soprattutto a poter sperimentare tante cose tante tante piccole idee che magari erano poco visibili dal in fronte al video ma dietro le quinte realtà c'erano e soprattutto mi ha portato anche a testare il format che poi proporrò nello speciale dei 6.000 autenti che è basato sull'aurora consurgence un testo di alchimia attribuito a tommaso d'aquino bene io ti ringrazio davvero ti do appuntamento ai prossimi video della lucerna di cronos e semmai veramente il ritorno dovesse esserci al ritorno dell'espresso e tarocchi ciao grazie